Ci vuole una legge speciale, ma a livello nazionale e al più presto, se vogliamo risolvere il problema della carenza dei medici e del personale sanitario, situazione che è ormai riscontrabile non solo negli ospedali del territorio, ma di tutte le regioni d'Italia. Così si è espresso Eugenio Porfido, direttore generale di ASST, Valle Olona, che ieri era presente all'inaugurazione della Casa di Comunità di Cassano Magnago. Qualcosa è stato fatto, continua Porfido con nuove borse di studio per l'accesso alle specialità, ma non basta contando l'alto numero di pensionamenti e le tempistiche per la formazione dei futuri specialisti. Credo che lo strumento, credo, non sta a me dirlo, sia quello di arrivare a una legge speciale che dia una serie di possibilità per recuperare professionisti da mettere velocemente all'interno delle nostre strutture e su cui garantire un percorso formativo. Questo per riuscire a sopravvivere mantenendo aperti i servizi nei prossimi 4-5 anni. La stessa situazione l'hanno vissuta gli anglosassoni 20 anni fa, prosegue Porfido, ma con una grande differenza. Avendo loro il Commonwealth, sono riusciti a far entrare all'interno del paese un numero elevato di professionisti provenienti dagli stati del Commonwealth e riuscire a tamponare questo errore di programmazione. Noi non siamo in questa condizione, sapete che abbiamo anche dei vincoli, non possiamo assumere personale che non fa parte della comunità europea. Tutte le assunzioni che sono state fatte sono sempre state assunzioni temporanee. Credo sia inevitabile incominciare a pensare a una legge speciale. Grazie. Grazie.